La grande illusione è il titolo dell'ultimo libro di Roy Menarini, pubblicato per le edizioni Mimesis nella collana Il caffè dei filosofi, diretta da Claudio Bonvecchi e Pier Dallavigna. È un libro che prova a tracciare un identikit dello spettatore, dello spettatore di cinema, ma anche forse dello spettatore di contenuti audiovisivi più in generale. La grande illusione però è anche il titolo di un film, di un grande film di Jean Renoir, che nel 1937, mentre il nazionalsocialismo tedesco ormai non nascondeva più le sue intenzioni, dirigeva un'opera pacifista, tanto che il regime fascista impedì che ricevesse il leone d'oro al Festival di Venezia, nato appena cinque anni prima, ambientata negli anni della Prima Guerra Mondiale. E oggi non solo siamo spettatori, da due anni in qua siamo più spettatori che attori, ma lo siamo di una guerra, ancora un'altra guerra. Che cos'è uno spettatore? È la domanda posta nell'introduzione al libro. Ne parleremo con l'autore Roy Menarini, docente di cinema e industria culturale all'Università di Bologna, storico e critico del cinema, segno redditor del semestrale Cinergie, autore di un suo podcast, Il Posto delle Fragole, e collaboratore di varie riviste, tra cui Film TV. Questo è Decisione Critica, il podcast di P. Greco M. Io sono Rosario Gallone. Buongiorno a Roy Menarini e grazie per essere intervenuto a Decisione Critica, il podcast di P. Greco M. Buongiorno, grazie a voi. Allora, ho pensato a questa cosa, c'è un libro di Thomas Elsesser e Malte Achener, Teoria del film, che già nella prefazione annuncia la domanda a cui si propongono i due autori di rispondere, cioè come si comporta il film rispetto al corpo dello spettatore. Non si tratta di una domanda nuova, originale, posta dai due autori, che però tracciano una storia delle teorie del cinema che hanno cercato di rispondere a questa domanda per poi ricavarne una loro nuova, in qualche modo. Anche la grande illusione, in qualche modo forse attraverso qualcosa di meno teorico o perlomeno, dal punto di vista teorico, di più empirico, esperienziale, cerca di rispondere alla stessa domanda. Sì, Antti, grazie per aver citato quel bellissimo libro che appunto passa attraverso, in qualche modo, anche i Cinque Sensi per raccontare che cos'è il cinema e le sue teorie. Nel mio caso, ovviamente, l'approccio è più leggero, è più popolare, è più autobiografico e si propone di mettere insieme il personale e l'universale perché ciascuno di noi ha dei ricordi spettatoriali, delle esperienze e così via, ma cercando poi nei vari capitoli di raggiungere un po' elementi che effettivamente sono anche elementi teorici o critici nei confronti del cinema, della sua storia, perché in verità attraverso le esperienze spettatoriali di ciascuno di noi, e queste sono le mie, c'è la possibilità di parlare di cinema e delle sue trasformazioni. Queste trasformazioni sono ovviamente di tipo culturale, di tipo sociale, di tipo tecnologico, e anche su questo mi soffermo abbastanza all'interno del libro, e comunque anche fisico, anche corporeo, ritornando a quella dimensione. Tra l'altro, io in un testo precedente di qualche anno fa, che si chiamava proprio il corpo nel cinema, ho cercato di studiare come il corpo umano è stato rappresentato dal cinema, quindi questa volta non è più lo schermo che racconta il corpo umano, ma è lo spettatore, le sue avventure, in qualche modo in una sala cinematografica, che sono di vari tipi, perché non dimentichiamo che il cinema è comunque, ha comunque una dimensione fortissimamente biologica, cognitiva e così via. Tutte le emozioni che noi proviamo al cinema sono comunque trasmesse dal cervello e tutte le emozioni che solitamente, positivamente, esprimiamo in sala sono quelle che ci spingono ad andare al cinema. Poi non sono evidentemente solo grandi film, solo emozioni positive, solo cose belle, perché ci sono tante altre cose in gioco, a volte emozioni negative, a volte momenti meno esaltanti, oppure anche responsabilità diverse. Vedere un film da soli o con qualche familiare o con dei figli di cui parlo nel libro cambia un po' la prospettiva. Essere soli in sala o in mezzo a 200 persone cambia la prospettiva. Vedere un film con una mascherina in faccia, come ci accade recentemente, è un'esperienza con cui concludo il libro, è una cosa vederlo, che ne so, all'aria aperta, sotto le stelle, un'altra. Quindi, insomma, in verità, tutte queste esperienze cinematografiche sono, sì, universali, ma ciascuna racconta qualcosa di noi. Proprio in riferimento, appunto, alle diverse forme attraverso cui si è spettatore, penso all'inomicciche che faceva differenza tra spettatore di superficie e spettatore di profondità. Lo spettatore di profondità sarebbe il critico e lei, in una sua precedente pubblicazione, il discorso e lo sguardo, si occupava proprio anche delle pratiche della cinefilia. La grande illusione, in qualche modo, attraversa anche le diverse età dell'essere spettatore. Le chiamastanze, però, sono appunto le età dell'evoluzione dello spettatore. Ora, ci sono alcune età che sono comuni a tutti. Poi ci sono, invece, alcune età, quelle del critico, del critico professionista, del critico che frequenta i festival, che chiaramente appartengono solamente ad alcuni spettatori. Assolutamente sì. Ovviamente, come dire, a volte lo spettatore, diciamo, di superficie può avere degli strumenti meno consapevoli, ma guardare le cose con occhi che magari sono più vergini, ma più in grado di cogliere certi aspetti. Talvolta lo spettatore di profondità ha degli schemi molto forti e ha un'esperienza enorme, ha la capacità di connettere le immagini ad altre immagini, ma ha perso un po' di quella freschetta. Per quello che poi, in una delle prime istante, la seconda insiste sulle esperienze spettatoriali da ragazzino, e faccio riferimento a un cinema parrocchiale vicino a casa, che aveva una programmazione abbastanza anarchica, poco legata a quello che ci aspetteremo da un cinema parrocchiale guidato appunto da un parroco, dove, essendo proprio sotto casa, io andavo a vedere i film in maniera caotica, massiccia, indipendentemente da cosa proiettavano, un film di guerra, un classico, un horror, un film per bambini e così via. E forse quell'esperienza appunto priva di diaframmi, dove già nasceva una passione un po' bulimica per il cinema, è stato un insegnamento molto importante per non fare troppe barriere, non fare troppe gerarchie e sapersi muovere tra tante immagini diverse e capire anche l'enorme articolazione che si porta con sé il cinema, che non dico che sia tutto il contrario di tutto, ma certamente è un mezzo dove vengono stimolati una quantità gigantesca di possibilità, di racconto, di potenzialità, di esperienza e di esperienza spettatoriale che credo appunto debbano fare un po' più riavvicinare quello spettatore di profondità e quello spettatore di superficie di cui parlava Miciche, perché ciascuno forse ha da regalare qualcosa all'altro. Quindi lei ritiene che lo spettatore, diciamo, critico professionista a volte perda un po', cioè veda i film forse troppo col cervello e meno con la pancia, poi arriva una stanza o un'età in cui avviene la perfetta sintesi tra questi due spettatori? Questa è una cosa che discuto molto spesso anche con i miei studenti, i miei allievi di alcuni corsi, quelli specialmente dedicati all'apprendistato, alla critica cinematografica, perché quelli che si affacciano per la prima volta a questa pratica dell'essere critici spesso mi chiedono, ma quindi dove finisce l'essere spettatore puro, ingenuo, quello che ho sempre fatto perdendomi nel film e dove comincia lo spettatore critico che quindi mentre vede il film sta già riflettendo sul film, che è una delle cose più complicate da armonizzare all'interno del proprio approccio. Io rispondo sempre, e rispondo così anche a questa domanda, che forse bisogna arrivare a un certo punto, che non è facile da trovare, quindi ci vuole paradossalmente un po' di tempo anche in quello, dove questi due aspetti tendono ad interiorizzarsi, a fondersi, almeno per quanto mi riguarda, ormai io penso di riuscire a mantenere abbastanza intatto lo stupore, il piacere di perdermi in un film e un'altra parte di me intanto sta prendendo mentalmente degli appunti senza per questo uscire dal film o essere meno emotivamente coinvolto. Certo, sono elementi che si devono armonizzare, interiorizzare, come dicevo e non sempre accade, perché esistono anche possibilità che ciò non accada, prevale un aspetto e allora uno non riesce mai ad essere completamente critico o prevale l'altro e allora uno si rovina un po' la festa del vedere un film. Quindi è un equilibrio complicato da trovare, ma si può trovare. Quando uno non riesce a essere particolarmente critico può avere a che fare anche con gli amori dell'adolescenza, ovvero vedere un film di un autore che si ama e magari non apprezzarne l'efficacia porta a un conflitto critico, cioè quasi essere reticente nel doverne parlare male o nel volerne parlare male. Il riferimento all'adolescenza è interessante perché proprio di recente stavo parlando del fatto che la cinefilia in qualche modo secondo me è un po' un'adolescente protratta, cioè c'è l'idea che l'amore per il cinema sia qualcosa di così intenso, così forte, così puro, che supera anche, come dire, tutte le cose, i relativismi che nella vita siamo costretti ad assumere a un certo punto. Quindi sì, la cinefilia non a caso è quella che ha inventato la politica degli autori, cioè quell'idea che un autore si difende in blocco o si detesta in blocco a seconda che noi decidiamo che sia un autore importante. Questi erano poi gli estremismi degli anni cinquanta e sessanta dei Cahiers du Cinema, però in verità quell'approccio della politique desautaires c'è ancora oggi, quindi a modo suo. Quindi capita che appunto noi si ami, si adori un cineasta e ci si trovi un po' in conflitto quando si vede un film evidentemente meno riuscito, meno ispirato. Allora lì secondo me ci sono due atteggiamenti. Quello che diceva Truffaut quando parlando di Jacques Becker e di Alibaba diceva la prima volta non mi è piaciuto, la seconda non avevo capito molto, la terza e la quarta ha cominciato a dischiudersi il film davanti a me, ho capito che cosa aveva di buono Alibaba. Quindi l'idea è che tu, critico, vai verso l'autore, che è un grande autore, quindi tocca a te vederlo più volte per capire che cosa ha fatto questa volta. Dagli una seconda possibilità. Dagli una seconda o addirittura una terza possibilità nel caso di Truffaut. In altri casi più laicamente si dice, va bene, insomma noi non continuiamo ad amare, non so, Clint Eastwood, Malmodovar, David Lynch, eccetera, ma questa volta è un passo interlocutore. È chiaro che, come dire, non giudico sbagliato il fatto che amando un autore noi innalziamo il nostro livello di attenzione e cerchiamo di capire, magari con un altro, con un esordiente, con qualcun altro lo liquideremo più in fretta, ma è come se questo autore si fosse guadagnato la nostra attenzione e guadagnato anche la possibilità di dargli una seconda o una terza possibilità ragionandoci su. In questa non c'è niente di sbagliato. Quello che è sbagliato forse rispetto ad allora è forzare a tutti i costi il nostro giudizio e cercare di cambiare quello che sentiamo veramente dentro di noi andando a difendere cose che effettivamente sono meno buone delle altre, anche perché poi, e chiudo, il rischio è quello di poi mettere sullo stesso livello i veri capolavori di questo cineasta con film leggermente minori e anche questo è poi un risultato che rischia di essere fuorviante. Quella del rapporto tra corpo e cinema, corpo e film, è un rapporto di cui si è occupata la fenomenologia, mentre il cognitivismo si è misurato con il rapporto tra mente e cinema. Negli ultimi anni si fa avanti una nuova forma di approccio allo studio del rapporto tra cinema e spettatore con un neologismo creato da Ruggero Eugenio e Adriano D'Aloia, la neurofilmologia, tiene conto del rapporto tra cinema, tra film e lo spettatore visto come organismo, quindi non più come corpo. Che ne pensa? Ma allora, Eugenio e D'Aloia naturalmente, adesso mi riferisco anche ad altri studi recenti di Ruggero Eugenio, sono i due autori tra i più attenti conoscitori delle nuove teorie che legano scienze pure, scienze umane e che quindi sono collegate all'esperienza spettatoriale con un legame molto stretto e credo che questo approdo, questo approccio sia veramente utile insomma proprio per uscire anche da quella divisione corpo-mente, fisiologia, cognitivismo che è stato un po' che ha rischiato insomma di dividere in compartimenti stagni cose che dovevano dialogare. Quest'idea dell'organismo a me piace molto anche perché tutto sommato l'organismo anche a livello invece più culturale è una delle mie analogie preferite quando parlo della cultura cinematografica in toto perché poi abbiamo questa tendenza a dividere tutto un apparato produttivo, distribuitivo e di consumo dei film da quello della critica, della didattica del cinema e dell'editoria e così via. Invece ecco l'idea di organismo della cultura cinematografica mi piace molto, a maggior ragione se gli studi sui media, come nel caso appunto di Eugenio in particolare, considerando anche i suoi libri, si stanno collegando sempre di più agli studi appunto su questo tipo di reazioni. Diciamo che la storia della teoria dello spettatore è una storia molto bella perché è una storia che parte da un'idea di passività dello spettatore o di pubblico nel senso più ampio del termine è passata attraverso finalmente l'idea che esistono dei pubblici e non un pubblico e poi pian piano si è affinata sempre di più cercando di capire che cosa fanno gli spettatori. Poi le discipline che se ne occupano sono tante perché queste sono discipline più fortemente scientifiche, ma se noi guardiamo alla sociologia o all'etnografia dei media, lì invece si cerca di capire come la dimensione economica di classe culturale, familiare, sociale guida le reazioni nei confronti dei film, quello che si pensa dei film e anche le tecnologie ovviamente ci hanno cambiato tantissimo. Una volta uno spettatore che andava al cinema 40-50 anni fa, se non era un critico sostanzialmente ne parlava con delle cerchie familiari e amicali, adesso con i social media si producono delle sentenze, delle riflessioni sui film e talvolta si producono anche dei piccoli prodotti appunto, quindi uno mette una foto, mette un trailer, costruisce un confronto tra immagini, insomma gli spettatori sono incredibilmente più attivi anche quelli che non fanno i critici o non lo fanno di mestiere. Quindi è come se si fosse evoluto più il paratesto che il testo audiovisivo? Beh sì, potremmo usarlo questo come slogan, è vero, è vero. Diciamo che è abbastanza curioso perché il testo audiovisivo che viene considerato qualcosa che è cambiato radicalmente, secondo me non è cambiato così radicalmente, cioè ci sono i film e quando si dice ho visto un film nessuno equivoca assolutamente, al massimo si chiede hai visto al cinema o l'hai visto a casa tua, però sostanzialmente ancora oggi nel 2022 un film è un film. Poi ci sono le serie televisive, poi è vero, molti enfatizzano, ci sono tante cose, c'è la docu-serie, il film spin-off dell'altro, gli universe e così via, ma la verità vera è che secondo me sostanzialmente questi grandi testi audiovisivi non sono cambiati molto anche quando si enfatizzano un po' le loro differenti, non sono cambiati poi tanto. È cambiato il modo di vederli, il luogo di vederli, questo me ne occupo molto anche nel libro, ed è cambiato appunto il paratesto, è cambiato il modo che noi abbiamo di parlare dei film, quindi si è passati da un'idea che a nessuno interessasse tutto sommato parlare dei film perché bastava andarli a vedere e poi con i social media, con il digitale abbiamo scoperto che come diceva Troffo, ancora oggi tutti vogliono parlare di cinema e lo fanno continuamente, quindi è una conferma della popolarità del mezzo, certo di fronte a una situazione che ho definito gassosa, cioè una situazione in cui ovviamente l'universo di riferimento è molto espanso, ci sono le sale, ci sono le piattaforme, ci sono tanti mezzi e schermi su cui guardiamo i film, ma ecco sostanzialmente a me interessa molto vedere come si è conservato abbastanza il testo e come sono cambiati i consumi e i consumatori. Lei infatti nel libro pone appunto la questione della differenza dello spettatore cinematografico, ma solo quello, quindi in sala, spettatore cinematografico inteso come spettatore che va in sala e che quindi si differenzia, è diverso dal lettore di un libro, però ora invece con il consumo casalingo, con le varie piattaforme OTT, la possibilità di mettere in pausa, lo spettatore di testi audiovisivi non in sala si avvicina sempre più a quello di un libro, un film, una serie, la vedi fino a una certa ora, poi la abbandoni, la riprendi il giorno dopo, esattamente come fai con un libro. Sì, questo curiosamente ha già una specie di retrocultura dietro di sé perché all'epoca, negli anni Ottanta, quando si diffusero le VHS, mi ricordo molti appassionati di cinema che dicevano ma con il fermo immagine si può vedere mezzo film un giorno, mezzo l'altro, si spezza e quindi in verità erano dibattiti che erano già nati anche 40 anni fa. Poi ovviamente adesso questo tipo di fruizione ritagliata su noi stessi, sui nostri tempi e soprattutto mobile, perché è diventata una fruizione mobile se noi lo vogliamo, cioè che ci portiamo dietro le piattaforme dove vogliamo, è chiaro che questo si è enfatizzato e si è intensificato all'estrema potenza. Quindi sì, il consumo del film e del testo audiovisivo è molto simile ad altri consumi che noi spezzettiamo, tanto è vero che sorprende sempre il fatto che quando si fanno delle analisi sui film più visti in piattaforma, ormai ci si è abituati a leggere cose tipo questo film è stato visto per 15 milioni di ore, non è stato visto da, non so, 10.000 spettatori o 100.000 volte, è stato visto per 15 milioni di ore, perché in mezzo ci sono quelli che l'hanno visto tutto, quelli che ne hanno visto due minuti, quelli che ne hanno visti 41 minuti, quelli che si sono rotti le scatole a metà e sono andati a vedere come finiva. Quindi siamo in una situazione di frantumazione da questo punto di vista. Ecco perché curiosamente la sala cinematografica, beh non tanto curiosamente, ma insomma la sala cinematografica è diventato veramente il luogo della unità, è dato veramente il luogo dove la fruizione del film porta alla fruizione ad essere integra e il film ad essere integro, nel senso che lì non scappi, l'orario lo sceglie qualcun altro, il film scorre secondo i tempi che decide il proiezionista, cioè quelli normali, e l'unica cosa che puoi fare è andartene dalla sala. Ecco, e questo credo che sia in fondo un elemento di garanzia che alcuni spettatori trovano positivamente, positivamente, non negativamente, che considerano positivo proprio perché sono sottoposti, anche non volendolo, a una spinta, a questa fruizione distratta e frantumata di cui parlavamo prima. Già nel 98 Giovanni Sartori parlava della trasformazione dell'essere umano da Homo sapiens a Homo videns, a distanza ormai di circa 24 anni, probabilmente l'Homo videns, diciamo, l'evoluzione dell'Homo videns ha soppiantato l'Homo sapiens. Si vede più che leggere? Sì, diciamo che appunto forse Sartori aveva già, stava già lavorando in una fase appunto di fortissima visualizzazione della nostra cultura, di schermi che si moltiplicavano, di teledipendenza si diceva allora, e così via, e quindi di riduzione dell'attenzione nella lettura e di lettura in generale. Ecco, forse quello che è cambiato in questo quasi quarto di secolo è innanzitutto una maggiore interattività da parte dello spettatore, anche questo è un termine un po' più vecchiotto, ma che oggi è forse più, come dire, più utile che mai. Ecco, per dire le cose che dicevo prima sul fatto che lo spettatore tende poi ad esprimersi in vari modi o a interagire col testo in vari modi, anche semplicemente spezzettandolo, come si diceva prima, quindi ha una sua attività. E in secondo luogo, come qualche collega dice, forse è un uomo, adesso non trovo un'altra categoria, però è un uomo che ama le narrazioni, per cui uno può trovarsi, è quello che qualcuno ha chiamato iper spettatore, che io allargherei anche se vogliamo alla lettura, cioè sostanzialmente oggi siamo talmente esperti come esseri umani, almeno quelli con maggiore istruzione, eccetera, che possiamo tranquillamente avere sospese contemporaneamente tre o quattro serie tv, aver visto dei film questa settimana, avere un paio di romanti sul comodino, ci aggiungiamo magari chi gioca ai videogame, o legge fumetti, anche quelli, e non abbiamo nessun problema a gestire tutti questi universi narrativi diversi tra di loro, non ci confondiamo, non ci casiniamo, non troviamo un personaggio dell'uno che per errore pensavamo fosse nell'altro. Queste sono competenze che sfociano addirittura nell'antropologico, abbiamo un adattamento ai media e agli schermi che è piuttosto evidente, che ha i suoi pro e i suoi contro, e quindi credo che sia un'altra fase ancora dell'homo videns di vivere immerso nelle narrazioni, che sono principalmente audiovisive, ma non solo. Va bene, io la ringrazio per essere intervenuto, ricordo a tutti La Grande Illusione, il libro di Roy Menarini, edito da Mimesis Edizioni, per la collana Il Caffè dei Filosofi, e spero di rincontrarla con un libro o senza un libro a un prossimo appuntamento. Grazie. Sicuramente, sicuramente, grazie dell'attenzione, grazie dello spazio. Un saluto a tutti gli ascoltatori.